ciao a tutti e benvenuti sul mio canale mi è appena arrivato questo pacchetto da beauty leash beauty leash è un sito e commerce è una specie di beauty bay o cult beauty look fantastic insomma è un sito in cui si può acquistare prodotti beauty makeup e skin care però è un sito americano che spedisce anche in in europa io sono iscritta alla newsletter di beauty leash da diversi anni però non ho mai ordinato nulla diciamo più che altro è un sito che mi piace andare a spulciare per vedere le novità anche se poi non non è che si capisce quello che arriverà in italia o comunque in europa è quello che invece esce soltanto per il mercato americano però è un paio d'anni che vedo dei dei pacchetti che praticamente sono delle lucky bag così dette lucky bag da una tradizione giapponese e che praticamente è una cosa di buon anno ma è difficilissimo riuscire a prendere queste lucky bag perché sono praticamente bisogna iscriversi alla newsletter una sorta di no una newsletter però diciamo che fanno una specie di lista d'attesa alla quale bisogna iscriversi per per tempo e io non ero mai riuscita a iscrivermi a questa newsletter quest'anno invece mi sembra che la newsletter sia arrivata a novembre fine novembre o i primi di dicembre io mi sono iscritta e poi mi è arrivata una mail dove potevo effettuare l'acquisto allora di lucky bag ce ne erano tre una era di prodotti soltanto di jeffree star un'altra era una lucky bag xl che però era riservata solo al mercato americano e poi questa qui che ho preso io oggi piove a roma e il pacchetto è arrivato un po un po bagnaticcio e però speriamo insomma che il contenuto sia sia integro e sono veramente molto molto curiosa di vedere se vale la pena o meno prendere questa lucky bag o che introduzione lunga che ho fatto comunque spero di essere stata chiara ecco le forbici per aprire il pacchetto e dunque la lucky bag costa 75 dollari diciamo che non sono così convinta che economicamente a noi europei convenga perché comunque al costo della lucky bag bisogna aggiungere il costo delle tasse e della spedizione negli stati uniti ho visto diversi video nei quali lamentavano il fatto che bisognasse pagare le spese di spedizione perché di solito queste lucky bag negli stati uniti è compresa la spedizione allora si apre e si presenta così allora viene da san francisco questo pacco package with love in san francisco molto molto carina questa cosa vediamo se riesco a farlo vedere mi piace moltissimo eccolo qua ecco san francisco il pacchetto si presenta così c'è questo bigliettino che è veramente molto molto carino e credo proprio che utilizzerò come come segnalibro ed è il simbolo anche che c'era nella chiamiamola newsletter ma non è proprio una newsletter per poter accedere all'acquisto della della lucky bag questo è quello che c'è scritto nel bigliettino che spiega che praticamente è una usanza giapponese per festeggiare il nuovo anno e praticamente è per augurare fortuna e si buona fortuna good luck and fortune dovrebbe essere più o meno la stessa cosa vabbè comunque speriamo insomma di essere stata fortunata con le sorprese che troverò all'interno della lucky bag molto carina anche la carta questo è la carta all'interno e questo è tutta carta questa è la carta praticamente di protezione quindi il contenuto allora mettiamo questo che mi piace molto questa carta ecco la mettiamo così è veramente molto molto carina mi piace allora vediamo che cosa trovo e quindi dicevo è la prima volta che riesco a a prenderla questa lucky bag allora la prima cosa che trovo è un beauty leash come soon quindi probabilmente quindi probabilmente allora no probabilmente lo so perché ho visto diversi video per cercare di capire se avevo fatto un buon acquisto o meno quindi ero curiosa poi ci ha messo veramente tantissimo ad arrivare perché mi sembra che praticamente io l'ho acquistata a dicembre e siamo a fine gennaio e finalmente insomma è arrivata e questo qui è un wika wake up e il sirium sirum allora dovrebbe essere un siero per gli occhi e dovrebbe essere un prodotto che verrà lanciato sul sito di beauty leash e che viene è stato messo in tutte le lucky bag e si poteva trovare o questo qui è l'isirum e sono contenta di avere trovato questo e con le molecole non so di preciso non ha profumazione è fatto così con con il contagocce poi mi studierò come come si utilizza e questo insomma sono sono contenta perché avrei volevo trovare insomma speravo di trovare il glitter and glow liquid eye shadow io adoro questi ombretti di stila allora che colorazioni sono dai lish stilis e bellis o questo mi piace moltissimo iridescent qui sono molto contenta di averli trovati vediamo come sono si sono bellissimi questi ombretti sono praticamente luce pura bellissimo proprio bello bello e poi il fatto comunque che siano piccolini io ne ho diversi di questi mi piacciono mi piacciono tantissimo anche questo veramente bello sono molto molto luminosi duraturi ma questo l'ho già trovato quale mi manca questo anche questo bellissimo ok questi mi piacciono molto poi vediamo questo che cos'è post make up recovery spray scandinavia questo non lo conosco conosco questo questo brand ma non ho mai provato nulla post make up dovrebbe essere uno spray fissante forse non lo so questa una profumazione ce l'ha ho fatto così con lo spray questo zinc infuse non lo so questo lo devo un po studiare per capire come si utilizza poi vediamo cos'altro c'è 2 lip cream liquid lipstick nella colorazione blu blush vediamo questo com'è ah bello un bel nude molto bello questo lo proviamo subito domani 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 anche questo mi piace uh stavo giusto sperando allora le palette in ogni black bag ho visto che è una costante una palette eh allora c'era o la soft glam di anastasia beverly hills che però io ho infatti e speravo di non trovare o una mini palette di natasha denona la camel mi sembra e anche quella non ce l'ho quindi se l'avessi trovata sarei stata molto contenta e però se avessi trovato una vise art sarei stata ancora più contenta questa è la trist perché non ho mai provato nulla di questo di questo brand e le palette vise art costano veramente tantissimo bel packaging ha uno specchio enorme e queste sono le colorazioni ah mannaggia non è scritto sopra vabbè comunque questa è la colorazione assolutamente da provare sono veramente molto molto contenta di avere trovato questa allora vise art california usa quindi è made in usa e come ultimo prodotto un pennello di wayne goss anche wayne goss l'ho sentito nominare e questo è il numero 13 è morbidissimo molto 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 bello questo pennello molto molto allora diciamo che tra tasse spedizione e mi è venuto a costare un un centinaio d'euro ma alla fine quanto quanto effettivamente valgono questi prodotti senza contare che comunque non non si possono non si possono scegliere quindi quello che che capita bisogna bisogna prendere diciamo allora questi sono tutti i prodotti il rossettino questo prodotto di scandinavia che devo studiare sono andata sul sito di beautylish per vedere i prezzi di ogni singola cosa per capire se effettivamente economicamente conviene o meno allora la palette costa 49 dollari il il set degli ombretti di stila costa 25 dollari il rossetto di giuvia che mi piace veramente moltissimo praticamente così asciutto sembra no transfer però sembra anche abbastanza morbido ovviamente lo devo provare sulle sulle labbra però devo dire che è una colorazione che avrei scelto e poi ho dimenticato di dire una cosa che quando si acquista la la beauty box no la lucky la lucky bag gli ho cambiato nome bisogna dire che tipo di colori di pelle sia se chiara media o scura o chiaro media media scura mi sembra che ci sono due possibilità di scelta io ovviamente ho scelto pelle pelle chiara perché insomma sono abbastanza pallida allora dicevo che questo rossetto costa 18 dollari veramente molto molto bello e quindi 18 dollari il pennello io ho sentito parlare moltissimo di questi pennelli e costano veramente tantissimo questa è nella numerazione 13 ed è uno dei più costosi perché costa ben 53 dollari e questo qui lo spray che sono andata a leggere come si utilizza si utilizza dopo il make up quindi una volta che si è struccati dopo 5 minuti dallo struccaggio si applica questo 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 spray che è ricco di di minerali e questo costa 26 dollari questo invece non è ancora in vendita sul sito di beautylish quindi non ho idea di quanto possa di quanto possa costare però visto così secondo me tanto poco non costerà almeno una decina di dollari costerà se non se non di più che poi è formulato con caffeina pumpkin extract sono 30 ml comunque anche questo mi sembra un prodotto interessante sicuramente da provare però questo diciamo che è in più perché non ho potuto trovare il prezzo e quindi il totale di tutti questi prodotti è 171 dollari considerando che io ho speso alla fine tra la lucky bag che costa 75 dollari più spese di spedizione tasse dogana e varie perché comunque la dogana sul sito di beautylish si paga in anticipo così non viene fermato il pacco e tutto viene pagato prima ed è tutto assolutamente in regola senza nessun tipo di sorpresa e quindi dicevo che mi sarà venuta a costare una novantina di dollari mi sembra e quindi sarà più o meno un'ottantina di euro e quindi diciamo che il valore del pacco è sicuramente superiore rispetto a quello che effettivamente io ho speso e sono veramente molto soddisfatta diciamo che dai video che ho visto in giro il rischio di trovare prodotti che magari già si hanno è abbastanza alto nel senso che se avessi trovato e ah e un'altra cosa che speravo tanto di non trovare erano le ciglia finte perché io non le utilizzo e ho visto anche costose comunque come ciglia finte ma io non utilizzandole speravo tanto di non trovarle insomma quelle e poi la palette di Anastasia Beverly Hills che avendole tutte insomma sarebbe stato un doppione e quindi diciamo avevo un po' paura di ehm ricevere qualcosa che non mi sarebbe piaciuto invece sono veramente molto contenta e mi sento anche molto soddisfatta e molto fortunata perché ho trovato tutte cose che mi sono piaciute questo pennello è qualche cosa di fantastico non vedo l'ora assolutamente di di provarlo è credo il pennello più morbido che io abbia mai mai sentito è un pennello da viso ovviamente molto molto bello e non vedo l'ora di usare questa questa palette che però non swatcho perché voglio fare prima qualche qualche foto sono veramente contenta perché è un brand che mi incuriosisce tantissimo e volevo volevo tanto provarlo e anche se avessi trovato la palette di Natascia De Nuna non non mi sarebbe dispiaciuto che più o meno come valore siamo lì perché è sempre sui 49 49 dollari insomma spero che questa mia review su questa lucky bag sia stata interessante spero di riuscire a prenderla anche l'anno prossimo perché sono veramente molto molto contenta e sì quindi mi appena sarà possibile prenotarsi mi prenoterò anche per l'anno prossimo perché mi è piaciuta veramente molto certo tra l'acquisto e poi l'effettivo spacchettamento passa veramente tantissimo tempo anche perché dal momento in cui me l'hanno spedita che mi è arrivata la mail di spedizione sono passati circa 10 giorni quindi insomma ci ha messo ci ha messo un bel pot però ne vale la pena assolutamente e sono veramente molto molto contenta certo è costosa però è anche vero che il valore di tutti questi prodotti supera di gran lunga il costo effettivo insomma e poi in più c'è anche il piacere della della sorpresa perché uno non lo sa che cosa riceverà è tutto molto molto ben impacchettato molto ben curato sì veramente una cosa molto 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 carina io ho visto delle lucky bag che non erano così altrettanto belle comunque spero di riuscire a prenderla anche l'anno prossimo e insomma per questo video è tutto spero di essere riuscita a mostrare tutto quanto al meglio ed essere riuscita a spiegare sia il funzionamento di beautylish che di questo di questa bag che secondo me è veramente molto molto interessante insomma grazie a tutti per aver visto il video e al prossimo ciao 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 ciao